sempre offerti dal supermercato due galli che cosa possiamo mettere? facciamo come ultimo una cosa difficilissima come ultimo partiamo con una bottiglia di quelle che vi tirano su eh e come dobbiamo fare la pubblicità per forza qua e come facciamo? e il bianco quelli che cuciono i vestiti bianco sarti va bene l'avete detto voi? dunque l'ultima la scegli tu l'ultima la scelgo io o la facciamo un po' difficile questa qua? vogliamo vogliamo in cambio di questa bottiglia e non ci deve essere portato da uno dell'orchestra la giacchetta del maestro Cagnoli noi vogliamo la giacchetta del maestro Cagnoli che è sbiancato che è sbiancato no non vale non vale non vale era uno scherzo era uno scherzo anche perché il maestro Cagnoli ha solo le maniche non ha la camicia una sola ne ha in tutto dunque noi vogliamo per questo vogliamo beh facciamola facilissima via una calza da donna è facile come è difficile è facilissima questa benissimo allora ci mettiamo anche una bottiglia di un'altra bottiglia di whisky assieme a questa coraggio una calza da donna una calza 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 da donna da questa parte tutto di qui hanno vinto lì in giuria nessuno di voi porta calza da donna la giuria no allora io ci metto guardate una bottiglia di ravarbaro a chi mi porta una calza da donna assieme al whisky e qui casca tutto assieme al whisky e al bianco sarti coraggio nessuno una calza da donna in arrivo eccola ma se la doveva levare in pubblico un applauso per la signora facciamo un applauso alla signora che si è levata la calza aspetti signora scusi è pulita diamo la signora Maria Maria bene che cosa è una calza è una calza posso assicurare che è una calza è una mezza calza vabbè gli daremo mezza bottiglia per bottiglia va bene signora grazie facciamo un applauso alla signora e noi a questo punto anche questo gioco è terminato silenzio di addietro c'è Gile sei sempre tu a parlare questo gioco è terminato